Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Un bimbo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. È accaduto nel tardo pomeriggio di Ferragosto nel piccolo centro di Pasian di Prato, in provincia di Udine Immediatamente sono intervenuti sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e con un'auto medica Il piccolo paziente è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stato immediatamente ricoverato Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità L'incidente è avvenuto a poche ore di distanza dalla morte di una bambina di 20 mesi, uccisa dall'auto del padre Avigo Novo, nel veneziano, l'uomo stava facendo retromarcia nel giardino di casa . Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video